A Benevento la fase 2 per bar, ristoranti e pizzerie aperti solo per le consegne a domicilio sembra non poter decollare. Serrande abbassate dunque sia in città che in numerosissimi centri della provincia, d'eccezione per qualche pizzeria. Gli esercenti non riescono quindi a ripartire. In molti, troppi casi, ancora non sono arrivati nemmeno i soldi per il pagamento della cassa integrazione per i dipendenti. E le banche vogliono garanzie concrete prima di elargire il finanziamento di 25.000 euro, almeno per i precedenti debiti delle imprese. Purtroppo non ci sono nemmeno i presupposti, è la base, perché comunque riaprire significa andare incontro a tantissime cose, oltre al fatto che non ci saranno in cassa di una volta, ma questo è assodato. Di la verità mi ero regato poco fa in banca per provare a vedere se mi era arrivata almeno la cassa integrazione, ma purtroppo no. Ecco, io questo volevo dire. Voglio capire tutte le restrizioni, sono d'accordo nel stanificare tutto, ma lo Stato mi vuole aiutare, o meglio ci vuole aiutare. Chi come Alessio oggi è in una condizione di difficoltà oggettiva, tra mille decreti e burocrazia, spera di poter riaprire il primo giugno. Penso che ci vorrà molto tempo affinché queste serrande possano realzarsi. Sì, ma io spero che arrivi presto, spero che arrivi presto, ma per me e per tutti, parlo di me in questo momento che metto la faccia per dire queste cose, perché a 30 anni stare su quel bivio, no, vita o morte, perché oggi si parla di vita o morte.